amici di youtube bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabian brosi.it quest'oggi parleremo di adobe after effect e vedremo come creare l'effetto neve che cade anche se forse non è periodo questo per parlare di neve ma può far sempre comodo abbiamo solo tre minuti per parlarne quindi iniziamo subito questo è quello che stiamo per creare come crearlo bene utilizzeremo le particelle in adobe after effect se non sapete cosa sia una particella non vi preoccupare tra poco vi sarà tutto molto più chiaro cancello tutto e ricomincio da capo creo subito un nuovo livello tinta unita do il colore che preferisco e importantissimo un nome per esempio neve ma è totalmente a vostra discrezione creo il livello e a questo punto devo inserire un effetto sopra questo livello l'effetto che utilizzerò si trova nel menu simulazione e l'effetto si chiama in particolare cc particle system 2 come modificare questi parametri per ricreare la neve innanzitutto iniziamo con il birth rate vale a dire la quantità di particelle che vengono prodotte al secondo 4 è un numero elevato abbassiamo ad 1 prima di andare avanti andiamo sicuramente a modificare il tipo di particella che viene prodotto sotto particles trovate particle type sono delle linee noi non vogliamo delle linee vogliamo magari dei delle faded faded sphere ok quindi delle sfere simili a queste ok già è un po più simile alla neve anche se ancora non ci siamo per la maggior parte delle proprietà andiamo avanti impostiamo il colore il colore vogliamo che sia bianca neve per lo meno per quella che vogliamo creare noi ecco qui impostiamo l'opacità non come fed out ma per il momento come constant in maniera tale da dare più solidità alla nostra alla nostra neve andiamo ad impostare adesso la dimensione delle nostre particelle vedete le dimensioni vanno da quando nascono che sono di 0.15 a quando muoiono che sono un po più grandi noi vogliamo renderle costanti per quello che vogliamo fare lasciamo 0 2 e 0 2 anche all death bene abbiamo una situazione simile a questa ma ancora siamo lontani dobbiamo sistemare ancora due cose intanto la produzione quindi la posizione da dove vengono prodotte queste particelle porto il valore dell'asse y in alto perché chiaramente la neve viene dal cielo e noi vogliamo farla arrivare da fuori schermo ecco qui e adesso vediamo cosa accade mando in play e già inizia ad essere più che una nevicata questa una tempesta voglio ammorbidire un po il tutto non vogliamo un evento esplosivo ma vogliamo un evento direction quindi che vada dall'alto verso il basso ancora diminuisco la forza di gravità uno è troppo la basso a 1 punto 0.1 0 virgola un punto virgola 1 aumento la resistenza la porta ad un valore non troppo elevato 8.7 va benissimo aumento anche extra che è un ulteriore elemento che serve per dare un po più di diciamo casualità alle nostre particelle a proposito di casualità è importante dare un valore di random seed differente da zero accade un'altra cosa che non ci piace le particelle spariscono prima ancora di toccare la parte di uscire fuori dal nostro dal nostro frame come risolvere in alto trovate questa voce longevity espressa in secondi vale a dire dopo quanti secondi la particella deve morire aumentiamo serenamente a 10 e vediamo ancora una volta che cosa accade però è come se piove come se nevicasse da un punto ben preciso del cielo e non in maniera costante come fare possiamo andare sempre nel pannello producer ad aumentare il raggio della x in maniera tale che le particelle occupino un raggio orizzontale maggiore ma andiamo in play tre minuti per parlare dell'effetto neve in adobe after effect sono questi i mini tutorial firmati fabbiambrosi.it per richiederne uno su misura per voi c'è l'indirizzo di posta elettronica tutorial chiocciola fabbiambrosi.it venite sul sito per altre informazioni www.fabbiambrosi.it iscrivetevi a questo canale youtube per altre informazioni e accendete le notifiche per restare aggiornati e mettete un like anche alla pagina facebook cercate fabbiambrosi al prossimo tutorial ciao